Siamo tutti molto dispiaciuti ovviamente, ma credo che sia anche la retorica, il retorico è quello che è finito, ma è la verità. Cosa è stata per te? Sicuramente una perdita così è come quando perdi un parente, perché alla fine un parente che non ha proprio la collocazione del nonno, dell'uzio, ma proprio perché lui era così, era unico. Rivoluzionava un po' le giornate tramite la televisione, oltre ad aver rivoluzionato la televisione avrei rivoluzionato un po'. Ecco, tutto. Bisognerà stare vicino a Maria? Ma Maria credo che sappia scegliere le persone da tenersi vicino, e mi auguro che possa superare al meglio questa situazione, alla quale non credo fosse particolarmente pronta. Grazie.